Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Jessica Selassie continua a voler conquistare Baru, ecco l'ultima trovata di una delle principesse Ecco cosa ha fatto.Jessica. Jessica Selassie è entrata nella casa del GF VIP come unico concorrente insieme alle sorelle come un unico concorrente Solo successivamente il GF ha deciso di separare le tre principesse Delle tre solo due sono ancora in casa Jessica e Lulu. Le tre hanno dichiarato di essere le nipoti dell'ultimo imperatore etiope Ales Selassie, trono caduto nel 1975 quando l'Etiopia è diventata una repubblica popolare Ma le principesse fanno sapere che non hanno perso il loro titolo e neanche i soldi Nonostante nei mesi scorsi si sia insinuato che siano figlie di un giardiniere, le tre sorelle, Jessica, Clarissa e Lucrezia, vivono in un lussuoso appartamento a Roma e vivono nel lusso con autista e maggiordomo La 26enne romana, Jessica, non è alla prima esperienza televisiva, ha infatti partecipato alla seconda stagione di Riccanza su MTV L'esperienza di Jessica al GF VIP sta facendo parlare per l'interessamento verso un altro concorrente che però non ne vuole proprio sapere Ecco l'ultima trovata di Jessica per conquistarlo.Jessica vuole conquistare Baru, ecco cosa fa Jessica le sta provando tutte per far innamorare Baru, concorrente anche lui al GF VIP Baru, nipote di Costantino della Gerardesca con cui ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express, non cede alle avanze della principessa Sono ormai parecchie settimane che Jessica si avvicina sempre di più a Baru ma sempre senza risultati Jessica e Baru. Ogni giorno Jessica ne prova una nuova per far colpo su Baru I Gerardesca, così i fan della coppia che in realtà una coppia non sono, ci sperano e fanno il tipo per questo nuovo amore Questa volta Jessica mentre erano a tavola per mangiare improvvisa una gara di ballo con Miriana e balla proprio davanti alla sua coppa Jessica ha ben pensato di fare un twerking molto sensuale per Baru, mostrandogli il suo sexy lato B Ma Baru non sembra aver apprezzato il ballo che gli ha dedicato la principessa E neanche le critiche sono tardate ad arrivare sia in casa che sui social Sui social molti commenti negativi, è inutile tanto non ti vuole, Jessica ma perché ridursi così, lui non ti vuole, Baru se ne frega di lei, altro che twerk Sui social non è mancato un evidente dettaglio, Baru non sarebbe andato a ballare con Jessica ma poco dopo però si sarebbe alzato per ballare invece con Soleil E secondo alcuni utenti quest'ultimo si è innamorato di Soleil Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video